Si sono svolti i funerali di Antonella e la sua piccola Maia, coinvolte nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada di Grande Comunicazione Ionio Terreno. Una folla commossa ha colto le due salme, portate in corteo in cattedrale, per la messa di Monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi Mileto Nicotera Tropea. Tanta tristezza e dolore tra gli applausi scroscianti all'affaccio a mare. Decine di persone presenti indossavano magliette bianche con la scritta in rosso, vola in alto insieme a mamma Lellina, piccola Poppi. Monsignor Attilio Nostro, nella sua omelia, si rivolge al marito di Antonella. A fine messa, Peppe, ti regalerò un rosario, potrai continuare a parlare con tua moglie e tua figlia. I legami non si spezzano, nemmeno il demonio può farlo. La comunità prega anche per Valentina Crudo, cognata di Antonella, e la piccola Fatima, mamma e figlia, coinvolte anch'esse nell'incidente. Attualmente ricoverate in gravi condizioni rispettivamente negli ospedali di Reggio e Messina.